ma adesso è arrivato il momento di parlare di una frase che ci ha fatto veramente ci ha acceso ci ha fatto penale ci ha fatto penale diciamolo è la serie disclaimer la vita perfetta di alfonso cuaron presentata al festival del cinema di venezia ma prima di parlarne ne voglio farvi sentire il trailer poi ne parliamo perché aiuta un po come ogni trailer ben fatto deve fare quindi prego questo è il trailer di disclaimer la vita perfetta la colonna sonora che sentite non è dentro alla serie però racconta molto bene anche con le immagini e con i suoni alla radio il trailer alla radio sempre piuttosto complicato da realizzare però è effettivamente un buon ingresso dentro questo testo che come vi abbiamo detto ci ha messo a dura prova non nel senso anche nel senso della della tenuta dell'attenzione perché disclaimer è una serie televisiva in sette parti è una serie evento in sette parti che uscirà dall 11 di ottobre sulla piattaforma apple tv plus quindi vi consigliamo assolutamente di se siete interessati se vi interessa il cinema di alfonso cuaron è assolutamente da vedere ma come avete sentito c'è una un thriller veramente molto molto teso stavo cercando di capire chi fosse il doppiatore di kevin klein ora ne parliamo però non a caso apple tv plus non distribuisce subito tutti e sette gli episodi ma ne centellina due capitoli alla volta per forza di cose anche per la sopportazione personale credo no su netflix ci sono cose molto peggiori molto più pesanti tutti insieme così in un pastone unico quindi iniziano i capitoli 1 e 2 l'11 ottobre per poi finire addirittura il finale di stagione è separato l'otto novembre allora noi praticamente di questa storia non vi possiamo dire niente quasi quasi niente però possiamo dirvi quello che in realtà viene abbastanza fuori dal dal trailer ovvero che la storia di una donna che è una donna universalmente molto apprezzata un artista diciamo una documentarista se non ricordo male molto apprezzata diciamo anche moralmente apprezzata cioè è uno di quei casi in cui sembrerebbe che l'artista debba corrispondere alla donna e entrambe debbano aderire ad un'idea di perfezione morale non si capisce bene per quale motivo però insomma è così il mondo chiede questo molto spesso quando fatti poi si scopre che artisti che amiamo nascondono diciamo dei lati di doppiezza che virano più verso la malvagità vediamo Puff Daddy, Mop è di un banale che poi non è che ce ne freghi più di tanto i Puff Daddy però insomma quando è successo per esempio con Kevin Spacey c'è stato, ecco lì ha tremato molti hanno tremato. Tutti maschi, eh? Tutti maschi. Comunque partendo da questo presupposto quello che viene fuori e che si vede anche nel trailer è che questa bontà amata da tutti apparente vacilla. Questo è quello che possiamo dire. La storia è una storia che va sull'onda del thriller anche se non è veramente un thriller. C'è comunque, c'è stata perlomeno della violenza e quindi possiamo un po' ascriverlo al mondo, forse più del noir, non lo so, una cosa simile va su Apple TV, l'abbiamo detto. Secondo me una delle cose migliori in assoluto è il cast perché effettivamente ci troviamo davanti a degli attori pazzeschi a partire dal personaggio più spiacevole in assoluto che è il marito della protagonista Robert Ravenscroft interpretato da Sasha Baron Cohen con in testa una sorta di roba un uccello morto. Sì che sono i capelli suoi però è discutibile. Sasha Baron Cohen sì, è quello che faceva Borat. Esatto, che in realtà è un attore incredibile, l'avevamo già capito però in questo caso fa proprio un personaggio fastidiosissimo e non è facile. Anche Kevin Kline è una roba enorme, gigantesca. Sì, Kevin Kline quello di in e out. Vabbè ma non solo dai, Kevin Kline ha fatto tante cose. Questa è una storia che viene da un libro il libro si intitola appunto Disclaimer in italiano la vita perfetta pubblicato da PM di René Knight è un libro del 2016, quindi insomma di un po' di tempo fa e anche una storia che ha molto a che fare con i libri, con le storie, col raccontare delle storie. A questo punto io mi affiderei pavidamente come al solito mio al Wikipedia perché la trama di questo Disclaimer la vita perfetta viene raccolta in una riga. Questo è quello che ho detto io. Catherine Ravenscroft è un'acclamata autrice di documentari appunto che scopre che il suo terribile segreto sta per essere rivelato in un romanzo incentrato su di lei, ma non perché gli arriva un comunicato stampa, no perché gli arriva proprio il libro. E questo basta, non possiamo dire altro. Ci è piaciuta? A Giovanni sì tantissimo. Aspetta, aspetta. No, non è vero? Voglio iniziare proprio con i difetti per me. Ah, ok. Allora, Alfonso Cuaron io gli devo veramente dire grazie sempre. Ho scritto la tesi di laurea su Alfonso Cuaron, quindi tra lui e la fotografia di Emanuele Lubeschi e Bruno Del Bonell, credo sia anche la parte italiana di questo progetto, va assolutamente citato. È una gioia per gli occhi queste sette puntate, però il difetto credo siano proprio queste sette puntate. Cioè, è il, credo, la prima, sì, è il primo esperimento, mi corrego subito perché Alfonso Cuaron nasce con la serialità televisiva, ha realizzato più o meno la versione a messicana di, dei rincontri di avvicinati, no scusami, ai confini della realtà, ma all'inizio proprio della sua carriera. Adesso torna con anche la forma moderna della serie televisiva e la libertà di fare serie televisive del 2024, dopo aver anche giganteggiato e anche sperimentato la forma libera del film su piattaforma come Roma. Roma è il film del 2018 che gli avvalzò l'Oscar, se non sbaglio, sì. Il film Roma è letteralmente dall'altra parte del mondo rispetto a Disclaimer. Disclaimer è appunto una miniserie che però probabilmente era la modalità migliore per Cuaron, che tra l'altro è anche l'autore della sceneggiatura sul soggetto di Knight, che è l'autrice del libro, era probabilmente per lui il modo migliore per raccontare questa storia. Probabilmente l'ha proprio detto, ha detto come un film sarebbe troppo lungo. Non sarei, non sono d'accordo. Lui l'ha detto, non lo so. Non sono d'accordo con Cuaron. Ah ok. Probabilmente una storia, sì certo, una storia così articolata, probabilmente una storia avrebbe, al cinema avrebbe dovuto, avrebbe meritato, avrebbe appunto avuto bisogno di alcuni tagli di struttura, però quello che abbiamo adesso noi sono sette puntate che a volte inondano lo spettatore, a volte inondano di bellezza, perché il gioco del, sì, tante chiacchiere, tanto testo, a volte appunto è fastidioso anche la scelta di sentire, quasi come fosse un audiolibro impiantato nella serie televisiva, nell'audio, o quasi un'audiodescrizione dei pensieri che non i protagonisti stanno facendo, ma il libro sta facendo sulla vita dei protagonisti. Quindi ci sono dei piani temporali, o comunque dei piani di lettura che si incastrano e a volte stridono. Innegabile la qualità di alcune scelte di regia. Ogni luogo ha una luce diversa. La casa, le case, anche i gatti delle due case, non dico molto però stiamo parlando di due personaggi, lei e la famiglia di lei, lui, Kevin Klein, che è esattamente Steven Brickstock, ha una casa nettamente quasi opposta rispetto alla casa della protagonista, ma le case raccontano moltissimo di cosa sono, cosa fanno, cosa non fanno i protagonisti dentro loro stessi, oltre che dentro le loro case. L'illuminazione degli ambienti è assolutamente un punto a favore, è un punto, un fiore all'occhiello di questo disclaimer, ma ogni tanto il bello è quello, mentre si perde un po' di ritmo. Allora, sicuramente si perde un po' di ritmo. Stavo cercando un po' di notizie su René Knight, sull'autrice. Allora, io devo dire, dico la mia, è sicuramente una storia che ha una resa estetica molto, molto ben fatta e tutto viene controllato, nulla viene lasciato al caso, dal raggio di luce in cucina al gatto, cioè tutto quanto concorre a creare l'atmosfera di quel momento, che sia un'atmosfera di tensione, che sia un'atmosfera di disperazione o di serenità, tutto quanto corrisponde. E questo sicuramente va detto e va dato, diciamo, come merito alla parte di Legia. Per quanto riguarda la storia, io non so se è la resa di sceneggiatura che mi puzza, nel senso che ci sono delle cose che non trovo credibili. Stavo lì e dicevo, vabbè, ma questa cosa non è possibile. Ma è una storia che in realtà dovrebbe avere delle basi di lealtà, perché non è una storia di, voglio dire, fantascientifica, fantasiosa, fantastica, è una cosa che può succedere in quella forma. Però non lo so, in alcuni casi mi è sembrato veramente che non mi tornassero delle cose. Stavo lì e dicevo, vabbè, ma questa cosa non è possibile, questa reazione non è normale, non si può avere quel tipo di reazione, non ce l'avrebbe nessuno. E quindi questa cosa mi ha decisamente abbassato l'attenzione. Oltre ad accenderti. Oltre ad accenderti. L'ho trovata effettivamente molto lunga, in alcuni tratti anche un po' pesante da sostenere. Avrei accorciato delle cose. Sono sette ore di racconto, quindi è il... L'ho trovata, non so se l'abbia scritto una donna, forse no, proprio perché l'ha scritta una donna, forse voleva proprio sottolineare tutta la serie di comportamenti maschili e molto parliarcali che ci sono in questa storia. E anche per dire una riflessione sulla maternità che non mi è piaciuta, ma forse era un intento. Cioè forse era una cosa che voleva essere sottolineata. Senza raccontarvi nulla, fino alla fine, fino all'ultima puntata, Quaron, in prima persona, gioca sull'ombra del dubbio, sul mettervi la pulce nell'orecchio, farvi andare dentro una via. Sì, sicuramente è colpa di quella persona e quindi puntate il dito verso una... Tra l'altro la stessa Lane and Knight è una documentalista. Esatto. Sì, sì, sì. Quindi anche il discorso dei luoghi di lavoro, l'essere e il dovere essere. Pure qui ne abbiamo parlato l'altra settimana con Joker, però qui è inserito più in una struttura da thriller classico, quasi fosse un Agatha Christie più o meno, però con appunto l'ombra del dubbio. E l'ombra del dubbio è inserita in questa società, in questo momento storico, dove appunto la reputazione, anche se poggiata su basi relative, appunto, si tratta di fonti, anzi di testimonianze assolutamente relative, realizza e cambia completamente la vita di alcune persone. Ne abbiamo parlato con Joker e prima ancora addirittura per Portobello, il progetto su... di bell'occhio su... Enzo Tortora. Enzo Tortora. Ci sono dei collegamenti, ci sono collegamenti tra questi tre film, tra questi tre... tra questi tre produzioni. Note sicuramente a favore sono, oltre alla messa in scena maestosa e la grandissima qualità attoriale, abbiamo Kate Blanchett nel ruolo della protagonista, Kevin Kline del coprotagonista. La famiglia di Kate Blanchett è appunto interpretata da Sacha Baron Cohen, che appunto non è la prima volta che interpreta un personaggio non comico, però sicuramente sono un grandissimo musicista di corde attoriali, molto molto abile. Cody Smith-McPhee probabilmente non vi dice nulla, ma però è spesso interprete di figli, già da tenere età, è un attore molto precoce. È quello del potere del cane. Qui forse ha giocato un pochino più di sottrazione, forse in maniera sottotono. Sicuramente la protagonista, il cast o meglio di Alfonso Cuarone, di Disclaimer, La vita perfetta, viene messo in situazioni veramente molto 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 variegate, ma che appunto tengono il ritmo a volte tanto, a volte poco. Addirittura le scelte di regia sono, come l'illuminazione degli ambienti, sono personalizzate. Un personaggio in particolare ha una regia sbollata, con una ipotetica camera a spalla, come se fosse inseguito in un scenario di guerra. Molto molto interessante, però io avrei molto molto gradito vedere questo film al cinema, questa serie in forma di film. nota assolutamente di merito, io se Leila George Donofrio non diventa la nuova supereroina della Marvel, o un'attrice assolutamente su tutti i cartelloni, c'è qualche problema. E interpreta la personaggia di Cate Blanchett da giovane. Pure qui ci sono, è un volto potente, ma soprattutto c'è un... Allora, un volto potente no, è bella, però non è neanche bella, diciamo, è molto bella, ma io l'arrivo molto ordinaria nella sua bellezza. Infatti fa un po' fa specie che è la versione di vent'anni fa di Cate Blanchett. Che era molto meglio, secondo me. Ma non meglio, no aspetta, però sembra che stiamo parlando dell'estetica. No, 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 proprio di caratteristiche espressive. Di espressività, secondo me. Ecco, io parlo di questo. È sicuramente, disclaimer, la vita è perfetta, una delle serie più attese della stagione. Esce dall'11 ottobre su Apple TV+. Ci siamo fatti anche qualche domanda sulla necessarità di parlare di prodotti su piattaforme, non voglio dire meno blasonate, però su piattaforme a pagamento, però ovviamente ne abbiamo parlato anche per altri concorrenti, a Apple TV+. Sicuramente c'è da dire che, ok, magari sarà una piattaforma che ha meno proposta, ma... No, Apple TV+, ha un'ottima proposta, solo che è... Meno numerosa. Sì, esatto, sono meno in quantità ed è meno diffusa, soprattutto in Italia. In realtà poi in America penso che sia invece molto più diffusa che da noi. C'è però da dire che la qualità è mediamente altissima. Altissima. Ted Lasso è uno di... Ted Lasso. Sì, secondo me se vi piace anche un po' il genere dark, diciamo i thriller, però ritmati, è una bella scelta interessante. Ho sentito parlare solo bene di Slow Horses. Sì, sì, sì. Quindi io un occhio e anche un calcolino per magari togliere un abbonamento e aggiungere quest'altro, lo farei, perlomeno a questo punto, per vedere disclaimer di Alfonso Cuaron. Alfonso, la prossima volta però, un film, per favore. Va bene, ce ne faremo una ragione. Perché è troppo... Quella cucina... Bellissima. Mamma mia. Sembra una roba da agenti immobiliari. Andiamo avanti. Stranamente, disclaimer, La vita è perfetta di Alfonso Cuaron si sposa benissimo con il nuovo brano di Bruno Rissas. Chissà, magari hanno collaborato, visto che disclaimer è stata girata in parte in Italia. Magari Bruno Rissas è passato dalle parti di Forte dei Marmi dove appunto è stato girato la serie oppure ce l'ascoltiamo.